Tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forza in Africa che importa, tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e i tuoi occhi e i tuoi occhi e i tuoi occhi e i tuoi occhi, i tuoi occhi e i tuoi occhi. André Cattarelli nasce dalla Sala Castellani con un gruppo di amici, amanti del cinema e della musica. Mi ha sbloccato il ricordo di anni e anni fa, avevamo iniziato con il Circo della Cina Metropolis a fare delle rassegne nella Sala Castellani a Porto Don Giorgio e poi dopo siamo riusciti come gruppo, siamo cresciuti e abbiamo preso in gestione prima il teatro a Capodarco ma anche la Sala di Assisti di Fermo e ultima il Salone di Snaboraz a Cattolica. Una serata meravigliosa con questo trio di Porto Padisco originario del Salento che veramente ci ha messo il cuore in questo ricordo delle musiche di grandi artisti come Pino Daniele e per ultimo anche il grande Paolo Conte. E' un battiato, una panoramica passando per Fellini, insomma una serata veramente ricca di musica e di cultura. Sì, abbiamo voluto far eseguire Massimo che è un amico che ormai conosciamo da un po' di anni perché l'abbiamo inserito in questo progetto che abbiamo assai assai cine contagio e perciò il cinema che si contagia con le varie arti. E qui era la musica che si contagiava con il cinema in questo spettacolo, il pellicolo e il pentagramma, il cinema d'autore con i cantatori italiani e stranieri come tu tu con Battiato, con Pino Daniele, con Paolo Conte. E' stata secondo me una baserata anche perché loro sono molto bravi, sia Massimo che Gaia e anche Emanuele, molto molto bravi. Grazie Andrea Cardarelli per la sua passione che mette in tutte le cose che fa rivolte al cinema, questo teatro nuovo di Capodarco che è una chicca assolutamente e gli artisti a fermo. Sì, perché noi non facciamo solo cinema in queste due sale ma facciamo anche stagioni teatrali e musicali perché crediamo nella diversità delle proposte e delle offerte e crediamo proprio anche come ho detto prima nel cinema e la musica e il teatro e le varie arti che si contaminano. Speriamo di vederci presto con qualche altra tua serata all'insegna del cinema e della musica. Sì, a breve uscirà a febbraio il nuovo Castellone, ancora stiamo decidendo alcune date, qui ci saranno comunque sempre spettacoli teatrali e musicali ma stiamo ancora definendo perché ancora sta un po' in... non in alto mare però stiamo quasi arrivando. Grido un gemido disciolto, giunti di colpo all'ultima stazione, non ci sei.